Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali si svolge a Potenza, nel campus di Macchia Romana. Il percorso di studi della durata di tre anni si propone di formare laureati con specifiche competenze nei temi della protezione e conservazione dell'ambiente e delle foreste, nella valorizzazione delle risorse naturali e nelle produzioni forestali, nello sviluppo delle più appropriate tecniche di gestione sostenibile. La didattica erogata prevede lezioni frontali, attività di laboratorio ed esercitazioni in campo, dove gli studenti possono mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante le lezioni. Inoltre è previsto un tirocinio formativo da svolgere presso un ente pubblico o un'azienda. Un'ulteriore possibilità, ampiamente utilizzata ed apprezzata dagli studenti del corso, riguarda lo svolgimento di attività formative all'estero, come insegnamenti, tirocini e tesi, connessi ai programmi Erasmus Plus ed altri programmi internazionali. L'accesso al corso prevede un test d'ingresso online, non vincolante per l'iscrizione, sulle conoscenze di base di chimica, fisica e matematica. Il corso è indirizzato a studenti appassionati di foreste, natura, ambiente, che hanno a cuore le sorti del nostro pianeta. I cambiamenti climatici impattano in maniera sempre più significativa sul territorio, per cui lo studente deve avere particolare interesse per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela delle foreste e delle risorse naturali, come acqua, suolo ed atmosfera. In questa visione il territorio della Basilicata offre una straordinaria opportunità per applicare le conoscenze acquisite. I nostri laureati potranno lavorare presso aziende pubbliche e private, società di consulenza e professionali di gestione forestale, monitoraggio, progettazione e pianificazione, produzione e commercializzazione delle risorse forestali. Chi vuole continuare gli studi può iscriversi alla magistrale in scienze forestali ed ambientali.